Tutelare le eccellenze politiche campane e respingere l'assalto della destra, una sfida che Francesco Boccia, ex ministro ed attuale commissario del PD in Campania, ha lanciato da Salerno in occasione della presentazione dei candidati alle prossime politiche. La Campania è centrale, sono centrali i modelli che abbiamo in Campania, Salerno è una città europea, ci sono città nel mezzogiorno che ce l'hanno fatta nei decenni che abbiamo alle spalle, una di queste è Salerno, la comuno spesso a Bari, sono città che dimostrano che il sud non solo ce la può fare, ma già dimostrato di farcela e noi dobbiamo accompagnare tutto il resto del mezzogiorno, ecco perché avevamo bisogno di Napoli, capitale del mezzogiorno, è arrivata con l'amministrazione Manfredi, ora abbiamo il dovere di tutelarla e difenderla da questa destra. Il lavoro sarà uno dei temi principali nell'agenda politica dei DEM. Sono problemi drammatici sul lavoro, penso allo sfruttamento, penso al fenomeno dei caporali, penso al lavoro sottopagato e sfruttato, su cui ci sono le risposte, il lavoro dignitoso, il salario minimo, il bisogno di mettere regole che permettano ai lavoratori di avere diritti. Ma il Partito Democratico deve fare i conti anche con le frizioni interne. Per il parlamentare uscente Sannita Umberto del Basso De Caro, Boccia ha perso una buona occasione per tacere, in quanto ha reso una dichiarazione ispida con la quale, senza sfiorare nemmeno lontanamente i temi politici posti, si è limitato a ricordare che i dirigenti hanno l'obbligo di votare a prescindere.